All'inizio l'obiettivo era smantellare Al-Qaeda all'indomani degli attentati dell'11 settembre. Era il 7 ottobre del 2001 e gli Stati Uniti di George Bush dovevano negare ad Osama Bin Laden una base operativa sicura in Afghanistan rimuovendo i talebani al potere. I bombardamenti della base aerea di Bagram a nord di Kabul segnano l'inizio di una guerra che vedrà per la prima volta la NATO reagire compatta all'aggressione subita da un suo Stato membro. A dicembre del 2001 a Bonn, in Germania, si svolge la prima conferenza per l'Afghanistan subito dopo la caduta dei talebani per stabilire un governo di transizione a Kabul. Il presidente americano Bush annuncia ufficialmente la vittoria degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Il regime taliban è venuto a un finito. Tre anni dopo, il 9 ottobre del 2004, si tengono le prime elezioni presidenziali democratiche. Due mesi dopo, Hamid Karzai presta giuramento come nuovo presidente dell'Afghanistan nel palazzo presidenziale di Kabul. La transizione sembra cosa fatta, ma la caccia all'uomo continua per altri sette anni e i talebani non smettono mai di farsi sentire. È il 2 maggio del 2011, quando le forze speciali USA uccidono Osama Bin Laden in Pakistan. In quel momento ci sono 140.000 soldati, 100.000 sono americani, schierati in Afghanistan. La missione continua. Aprile 2012, forti esplosioni, razzi e colpi di arma da fuoco scuotono Kabul mentre i talebani afghani lanciano un'offensiva di primavera con molteplici attacchi contro le ambasciate occidentali, il quartier generale delle forze della Nato e il palazzo del Parlamento. È il fuoco mai spento che covava sotto la cenere e nel 2015, un anno dopo la fine della missione di combattimento della Nato, i talebani ricominciano a conquistare terreno e forza. Prima c'era stato l'annuncio di Barack Obama. Entro la fine del 2014, la sua promessa, la transizione, sarà completata. La guerra americana in Afghanistan arriverà a un fine responsabile, il suo impegno. Non sarà ancora così, mancano le condizioni. Ci prova Donald Trump. Il 29 febbraio 2020, dopo quasi due anni di trattative, gli Stati Uniti firmano a Doha un accordo bilaterale con i talebani, che apre la strada a un completo ritiro dei soldati stranieri dall'Afghanistan. In cambio dell'assicurazione da parte dei talebani, che l'Afghanistan non sarebbe più stata la piattaforma per il terrorismo internazionale e dell'impegno a iniziare un dialogo con i politici afghani. Accordo sbilanciato, secondo molti. Accordo che Joe Biden, 46esimo comandante in capo, non denuncia. Al contrario, il 14 aprile annuncia il ritiro delle truppe statunitensi a partire dal 1 maggio e dentro l'11 settembre, data simbolo, per porre fine alla guerra più lunga d'America, respingendo le richieste di rimanere per garantire una soluzione pacifica al conflitto interno. Così il fuoco riprende vigore. La base di Bagram viene abbandonata dagli americani all'inizio di luglio. È il segnale. La violenza aumenta in tutto il paese, mentre i talebani cercano più territorio. In sei settimane entrano a Kabul. Dopo 20 anni di guerra, i talebani tornano al potere. Le conquiste di questi 20 anni sono tutte in gioco, dai diritti delle donne e delle minoranze ai rapporti con il jihadismo, mentre migliaia cercano di scappare dal paese. L'UNHCR conta già 270.000 afghani sfollati dall'inizio dell'anno a causa dell'aumento dei combattimenti, portando il numero di persone costrette a lasciare le proprie case a oltre 3,5 milioni. Sul campo rimangono le vittime. Impossibile stabilirne il numero esatto. Una stima parla di almeno 241.000 persone uccise come conseguenza diretta della guerra. Altre centinaia di migliaia, per lo più civili, sono morte a causa della fame, delle malattie e delle tante conseguenze del conflitto. L'Italia in Afghanistan ha perso 53 soldati. Gaia Monbelli, Sky TG24